In questi giorni tutti guardiamo di nuovo verso la Luna, comprensibilmente lo fa anche il Circolo Culturale Astrofili di Trieste, che domani sera organizza una serata dedicata all'osservazione della Luna. Domani sera, inizio ore 21, ci sarà l'apertura al pubblico del nostro osservatorio astronomico dedicato a Bruno Zugna, che è sito a Prosecco, località Camposacro, e faremo una conferenza dedicata all'emissione a polio 11, proprio durante l'allunaggio vero e proprio, nella stessa giornata, nella stessa serata, e a seguire verso le 11 e mezza, tempo permettendo, speriamo sia bel tempo, la possibilità di osservare la Luna attraverso i telescopi che noi mettiamo a disposizione del pubblico. Kelleri ricorda anche un'altra iniziativa, con la collaborazione del Centro Studi Militari in programma al Museo Postale di Piazza Vittorio Veneto. L'intitolata Un grande balzo lungo 50 anni, ci sono dei modelli che rappresentano tutte le astronavi che sono state costruite e utilizzate prima dell'Apollo e durante l'Apollo, con altre immagini dedicate proprio a tutta la missione.